Importanti novità sulle pensioni di professionisti, lavoratori autonomi e commercianti connessi alla sospensione dei contributi a seguito del sisma del 2009. Questi potranno ottenere la piena contribuzione a fronte di un pagamento ridotto ci sarà insomma il pieno riconoscimento grazie ad una interpretazione aggiuntiva del ministero accettata dall'Inps della circolare del 2016. L'invito dell'Inps è quello di presentare entro il 31 maggio al massimo tutta la documentazione necessaria. Una buona notizia per artigiani e commercianti hanno detto i vertici dell'Inps accompagnati dal sindaco Pierluigi Biondi. La dilazione sarebbe finita nel 2022. La documentazione va prodotta per avere l'abbattimento del 40 per cento con il rispetto dei tempi per la dilazione e anche chi non ha pagato la rata dovrà presentare comunque i documenti. Nel cratere ci sono 4.953 istanze di restituzione agevolata. 4.754 nel territorio di competenza Inps. Il dato sull'Aquila è particolarmente significativo. Sono 3.157 le istanze non corredate da tutti i documenti in tutta la provincia. Solo 1.880 non sono state acquisite. 1.750 non sono in regola con i pagamenti. L'arco temporale è quello del 2009, 2010, 2011. Con la produzione del De Minims l'Inps chiede ai coinvolti di regolarizzare così la loro posizione per permettere di non avere tempi di liquidazione lunghissimi. La documentazione potrà essere inviata direttamente agli uffici Inps via posta ma anche in via telematica non c'è una procedura unica. Parliamo della dilazione per un periodo in cui erano stati sospesi il versamento dei contributi. La chiarificazione che è arrivata proprio in questi giorni è che a fronte di un pagamento ridotto che era stato concesso ci sarà l'accredito pieno della contribuzione per gli artigiani e commercianti che hanno presentato la corretta domanda. Parliamo sostanzialmente in principal luogo della dichiarazione De Minims e noi chiederemo ulteriormente ai soggetti che a oggi non ci risulta aver presentato questa dichiarazione la trasmissione della dichiarazione De Minims in modo che possano furire della contribuzione piena.